Pronti via si parte, al quarto minuto il primo serio acuto, guarda caso, è di Esposito che si beve mezza squadra giallorossa appena in aria, viene abbattuto ed è calcio di rigore letto. Battuto dallo stesso Esposito ed è subito 1-0 per gli ospiti che vedono appunto Esposito non nemmeno esultare per rispetto verso i suoi vecchi tifosi. Pur non passando nemmeno tre minuti che al settimo ancora Esposito, guarda caso ancora, prende la palla decisamente e la indica verso Salatino che però ha una conclusione abbastanza insipida. Al ventiquattresimo poi ci provano i termolesi con una buona discesa che però produce un nulla di fatto. Al trentaduesimo ancora i giallorossi ci provano con una discreta azione partita dai piedi di Caravagliola che serve Defendi che ci prova in semi rovesciata ma il suo tentativo finisce fuori. Al trentottesimo ancora gli ospiti con la gamba che di testa ma guadagna solo un angolo, nulla di fatto neanche in questa occasione. Arriviamo così al trentanovesimo con il pareggio termolese che si sviluppa su una mischia furibonda in area verde-oro. Tra le altre cose qualcuno reclamava anche un mani ma l'arbitro fa continuare e arriva la palla sui piedi di Smailai che da pochi passi mette in gol per l'1-1. Si va così sul pareggio a riposo, nella ripresa sembra un termoli davvero più gagliato e infatti al secondo su una punizione battuta dai giallorossi c'è una parata in due tempi del portiere ospite. Ci prova al quinto ancora Baldè, il suo tiro esce di poco fuori. Al decimo il termoli la ribalta da conseguente calcio d'angolo, Cagliazza da pochi passi ci prova su una sua strada però trova il piede di un difensore ospite che non può far altro che far continuare la corsa in gol. Quindi il gol è da attribuire sicuramente a Cagliazza. Poi il gol del vantaggio sembra che abbia in qualche modo appagato il termoli perché a questo punto torna di nuovo in cattedra esposito che prende di nuovo come diciamo la bacchetta del direttore d'orchestra e con un pallone conquistato a metà campo si fuma gli avversari con una tecnica facilità da far arrossire e fa assegnare da solo il gol del 2-2. E ancora lui poi al trentesimo tira un pallone fuori di poco. Al trentunesimo ancora ospiti al tiro con Napoletano, il termoli risponde non propriamente convinto. Al trentaquattresimo con un angolo finisce di poco fuori e al quarantatresimo esce tra gli scroscianti applausi sia dei suoi tifosi, un bel gruppetto arrivato dal piedi Monte Matese, ma soprattutto da parte dei tantissimi tifosi giallorossi che non hanno certo dimenticato l'estro e la bravura di questo giocatore che ovunque sia andato ha sempre lasciato un segnale positivo. Finisce con l'ennesimo pari di un termoli che è costretto ad attendere ancora di più la vittoria. Quando arriverà questa vittoria? Sarà domenica prossima a Vasto Girardi. Chi vivrà vedrà.